Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Così commentammo le elezioni europee della primavera del 2024. Tutto cambia a ciò che nulla cambi e in effetti mai descrizione fu più puntuale e verace, se consideriamo il fatto che adesso l'Unione Europea, ad alcuni mesi di distanza dalle fatidiche elezioni primaverili, si trova nella medesima condizione in cui già era. Segnatamente per quel che riguarda i falchi, i cosiddetti falchi dell'Unione Europea, che si trovano a gestire niente po' di meno che le finanze. Proprio così, le finanze europee saranno gestite dai falchi, come vengono puntualmente detti. Cosa significa questo? Significa esattamente che si continuerà sulla ben nota linea dell'austerity, dei conti in ordine, della tecnocrazia repressiva voluta da Bruxelles, ossia i dogmi fondamentali del Vangelo neoliberale. Del resto, come non ci stanchiamo di dire, come abbiamo mostrato nel nostro libro Globalizzazione, l'Unione Europea si fonda ab intrinseco sul neoliberismo e non è certo accidentalmente volta al neoliberismo. Basta anche solo leggere di sfuggite i due trattati fondativi dell'Unione Europea, quello di Maastricht del 92, quello di Lisbona del 2007, per acquisire coscienza di come il verbo neoliberale sia autenticamente fondativo dell'Unione Europea. E verbo neoliberale significa distruzione organizzata dei diritti sociali e del mondo del lavoro, significa guerra di classe dall'alto contro il basso. Sicché quando Mario Monti disse che la Grecia era il più grande successo dell'euro, aveva ragione, perché quello è l'obiettivo del neoliberismo, produrre tante Greci distrutte dal discorso e dalla pratica neoliberali.